Abbiamo bisogno del supporto umano, materiale e spirituale di tutti. È l'appello del Presidente della Fraternità Federico Bindi Cristiano Rossi alla comunità Aretina. La Fraternità gestisce dal 2015 un centro di urno per senza tetto e persone in stato di bisogno. Solo dal mese di ottobre, nell'arco di 30 giorni di apertura, gli accessi sono stati oltre 300, 100 le docce erogate, 50 le lavatrici, oltre a colazioni e distribuzione di indumenti e calzature. Il centro di urno, afferma ancora il Presidente, ci consente di incontrare le persone, ascoltare i loro bisogni e le loro storie. Nei tre co-housing sono 20 le persone accolte. L'appello, dunque, del Presidente Rossi è rivolto al cuore, alla generosità degli Aretini, affinché questo prezioso servizio possa continuare ad esistere. Abbiamo bisogno di soci, volontari, simpatizzanti, dice Rossi, ma anche benefattori, perché le spese di gestione delle nostre strutture, tre case di accoglienza appunto e un centro di urno, comportano un grande impegno economico.